Adesso so chi è il mio nemico. Finalmente ho capito chi mi sta dando la caccia. Immagina di avere un nemico... ...che non puoi identificare. Ma adesso io l'ho riconosciuto. E chi sarebbe? Il tempo! Oh, accadranno cose terribili. Me lo sento. Succederà qualcosa di brutto. È tempo di cambiare, amico mio. La vita non è più quella di prima. Sembra che qualcuno abbia già scandito le giornate al posto mio. Qualcuno mi prende in giro. Sei un codardo. Di sicuro ti verrebbe un infarto. Mi conosci troppo bene. Yusuf si comporta in modo strano. Tu non ti apri mai. Sei sempre così chiuso. Sei un enigma. Adesso abbiamo un problema molto importante. Lo sai che papà non sta bene. Non credi che dovremmo pianificare il nostro futuro. Ho dei figli adorabili. Sono cresciuti bene. Un sorriso. Voi avete creato una bellissima famiglia. Davvero. Non diciamo niente. Deve restare fra noi, va bene? È un brav'uomo. Davvero un brav'uomo. Hai detto che ti annoiavi. Ti va di divertirti un po', sì o no? E se a casa trovassi una bomba? Mi sono cacciato in un grosso guaio. Distesa lì. Piena di sangue. Devi essere audace per cambiare. Servono le palle per cambiare. La vita è un circolo vizioso. Io non voglio morire. Io voglio morire. Io sono ancora vivo. Questa tinta è orribile. Non mi sembrano così male. Una decisione audace. Il biondo? È troppo. Non mi sembrano così male.